buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo sulla mobilità delle spalle per farlo rimarremo in piedi e metteremo le braccia in questa posizione i gomiti sono abbastanza vicini al corpo le mani invece sono distanti da questo da questa posizione inverto diciamo così l'ordine di mano e gomito ovvero i gomiti vanno leggermente in fuori e le mani cercano di passare un po dietro di me per poi di nuovo riscambiare la posizione quindi le mie mani andranno non tanto una verso l'altra davanti alla pancia ma è come se i gomiti facessero un po spazio per far passare le mani verso la schiena e poi le mani escono e i gomiti si riavvicinano in poche parole questo sarà il movimento incominciamo ci faremo dieci ripetizioni di questo movimento per tre serie si parti le mani vengono verso di me e un po indietro i gomiti vanno verso l'esterno in avanti e poi si inverte tutto le mani escono fuori i gomiti si avvicinano al corpo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e si sciolgono bene le braccia se serve possiamo anche fare un po di rotazioni delle spalle ripeteremo per altre due volte questo esercizio quindi ci posizioniamo e incominciamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e di nuovo si va a sciogliere bene le braccia a ruotare un po le spalle e ci prepariamo all'ultima serie di ripetizioni apro le mani i gomiti sono vicino al corpo e inverto le mani entrano in dentro e un po indietro i i gomiti si aprono verso l'esterno uno due tre quattro quattro cinque sei sette otto nove e dieci e si sciolgono bene le braccia di nuovo si fa ancora qualche piccola rotazione con le spalle bene anche per oggi la nostra lezione è terminata non ci resta dunque che darci appuntamento a domani per una nuova lezione e e e e e e e Grazie per la visione!